Buongiorno, sono Stefano Benedetti, sono insegnante presso la Fondazione ENAIP di Cremona per quella che è la parte specifica di laboratorio di pasticceria. Vuol dire che i corsi della struttura ENAIP su Cremona hanno un corso specifico per ragazzi che si avvicinano a quella che è l'attività di panificazione e pasticceria. Nello specifico io curo la lavorazione della pasticceria in un laboratorio interno alla struttura scolastica, un laboratorio che è attrezzato con tutti quelli che sono i macchinari all'avanguardia per poter dare una preparazione al meglio ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi seguono questi corsi che sono strutturati per tre anni, all'interno dei quali partono da una lavorazione di base della struttura intesa come materia, vuol dire un avvicinamento alla produzione di tutti i tipi di pasti che servono per una produzione specifica di pasticceria. Con questo il percorso successivo, che è negli anni secondo e terzo, li porta anche a delle esperienze di laboratorio specifico in realtà produttive. Sul territorio si individuano delle pasticcerie di prestigio presso le quali i ragazzi seguono le formazioni di stage. Cosa dire? È un'attività che è seguita dall'Enaip, è sicuramente una possibilità per i ragazzi di avvicinarsi a quello che è un mondo anche lavorativo, visto che i risultati dimostrano che a breve termine, finiti quelli che sono i corsi appunto scolastici, i ragazzi hanno una buona possibilità di trovare un impiego sul territorio.